Fino a questo momento quello che è emerso è il tema delle RSA che devono rispondere a nuovi bisogni, la popolazione anziana che è cresciuta, il modello delle RSA vecchio perché risale agli anni 90 e che si trova di fronte ormai alla realtà che costringe le RSA a spostare la propria attività prevalentemente sul piano sanitario oltre che sociale e infine la disponibilità delle RSA e la necessità che siano un elemento del sistema complessivo dell'assistenza agli anziani. Grazie a Nicola, grazie a tutti voi. Ritengo che sia davvero importante che venga organizzato un convegno di questo genere che io saluto con assoluta positività perché è una visione quella che ci dobbiamo dare non solo di dibattito e dialogo sul contingente, sulla gestione e sul rapporto con quelle che sono le problematiche che in un mondo quale è quello dell'assistenza agli anziani ha posto la pandemia ma sia il momento di una visione strategica su quello che nell'assistenza agli anziani invece ci poniamo per il futuro e quindi il concetto di oltre le RSA inteso non come valutazione indirettamente negativa su quello che sono e hanno rappresentato ma invece come ulteriore miglioramento e percezione di un livello di welfare e quindi di assistenza che implementi quella che io giudico nelle RSA in Toscana un'esperienza positiva. Non a caso il numero delle RSA, il numero degli anziani che vengono seguiti, sono rispetto ad altre regioni un numero consistente e è un numero che dà il senso di un livello alto di welfare e quindi di benessere che si raggiunge attraverso la capacità di dare risposte ad ogni età a quelli che sono i problemi sociali che la comunità poi vive nel complesso. Quindi una valutazione positiva rispetto a quello che è l'esperienza dell'RSA in Toscana che ci fa andare oltre ma non ci fa assolutamente negare quello che in realtà attraverso l'esperienza di questi anni si è progressivamente affermato. Un diritto all'assistenza per una popolazione anziana che rappresenta nella terza età sempre più un numero forte di componente della nostra comunità. E' pari questo al livello di maggiore cura che porta l'aspettativa media di vita ad aumentare, è pari alla diminuzione, e questo è un aspetto molto negativo, demografica. Io vi dico che da quando sono Presidente della Regione ogni giorno ho la mia tabellina dei dati su quello che sono i contagi. Sono entrato l'8 di ottobre quindi nel contesto di quella settimana 4-11 ottobre che segnò il passaggio allora dopo un'estate che sembrava aver allontanato il Covid-19 da 1.000 contagi a 2.500, poi l'ultima di ottobre arrivamo a superare i 15.000 nell'arco di una settimana, la prima di novembre a avere il record di 16.700 in una settimana. Li dico questi dati perché oggi leggo spesso i giornali, ascolto i media, si cerca sempre di trovare l'aspetto di preoccupazione, la variante Delta e così via. Ma altra roba, avere oggi 58 contagi e quindi 350 la settimana rispetto a quando ne avevamo 16.700. Quindi un attivino oggi cerchiamo anche di dare riconoscimento al lavoro che si è fatto e un po' più di tranquillità alla popolazione. Però è evidente che guardando i dati, ricordo che a ottobre, nella comparazione fra le 20 regioni, la Toscana aveva come numero di abitanti 3.729.000. L'aggiornamento Istat avviene ogni quattro mesi. Al primo di gennaio lavoravamo con una regione che vedeva calare a 3.692.000 i suoi abitanti. Dal primo di maggio, dopo l'altro quadrimestre, la popolazione toscana è 3.668.333. Tutte le statistiche oggi sono a questo dato. È veramente una cosa che ti dà psicologicamente la sensazione di una trasformazione della società di cui probabilmente non abbiamo piena contezza. Una diminuzione demografica così accentuata indubbiamente poi ci porterà problemi e ci farà vivere una società in cui sicuramente il senso della speranza, della prospettiva del futuro, viene meno nel momento in cui vi è una diminuzione demografica che questa volta non possiamo dire accanto all'Italia c'è l'Europa. No, perché ci sono paesi come la Francia e la Germania che non hanno questi dati. Ma al di là di questa riflessione che non è di stamani, è evidente che la problematica degli anziani in una popolazione che vive una diminuzione demografica di questo genere è sempre più forte. E sempre più forte si propone anche nel momento in cui noi ci troviamo ad avere attraverso la pandemia la consapevolezza di quanto attenzione vi sia. Noi ricordo che all'inizio della vaccinazione dicemmo prima di tutto l'RSA e onestamente il fatto di essere stati i primi a raggiungere tra le 20 regioni italiane nella collaborazione con chi le gestisce e chi opera all'interno dell'RSA. Il 100% di prima somministrazione ha evitato tanti morti perché onestamente il fatto di vedere quello che significavano i focolai nella fase pre-vaccinazione e il fatto che dopo noi abbiamo avuto una situazione oggettiva tenuta da sei mesi a questa parte mostra come la nostra complessiva attenzione dei gestori, dell'istituzione pubblica, di quelle che sono le strutture sanitarie che hanno collaborato, della capacità di vigilanza all'interno dell'RSA è un titolo che la Toscana si deve prendere di più di quanto poi non venga fuori all'interno dei medi. E io ho trovato onestamente nei gestori sempre collaborazione, significativa testimonianza di perseguire l'interesse generale. Per questo mi sono sentito con l'assessore Serena Spinelli che segue e attiva anche con passione rispetto a quello che è l'andamento di dover provvedere con l'ordinanza che ben conoscete anche ai problemi che si sono creati sul piano del personale proprio nei tempi recenti e quindi la capacità anche di tenere personale e professionale qualificato all'interno dell'RSA. Ritengo che sia molto importante la questione del personale. In un momento in cui si parla di crisi del lavoro, di crisi occupazionale, io ritengo che sia necessario che lo Stato, e noi facciamo la nostra parte in Regione, che lo Stato abbia la necessità di rivedere la percentuale di bilancio e quindi di spesa pubblica rispetto al settore socio-sanitario. E parlo di socio-sanitario, non solo di sanitario. Ritengo che vi sia la necessità almeno dell'1% della nostra spesa pubblica di destinarlo al fondo complessivo perché poi non possiamo vivere in modo contingente la situazione che ci stiamo trovando noi. Quando noi siamo andati a vedere quello che ha significato nel nostro bilancio il 2020, l'anno passato, ci siamo resi conto che complessivamente mancavano all'appello rispetto a quello che erano i canoni formali del bilancio, così come veniva presentato nel 2019, 180 milioni. Questi 180 milioni noi li abbiamo recuperati perché 80 milioni ci arrivano dal decreto di storia, un miliardo per le regioni, li abbiamo recuperati tagliando moltissimo negli altri assessorati. Onestamente noi abbiamo fatto un'operazione quest'anno che è quella di aver tolto le spese vincolate in accordi di programma intese, ovvero risorse che potevano riguardare interventi che possono poi in prospettiva essere recuperati dai vari altri assessorati. Io quindi dal bilancio ordinario della regione ho tolto sostanzialmente altri 100 milioni per poterli destinare al socio sanitario. Ma il prossimo anno dove andiamo? E conseguentemente ecco che io di rimettermi in una situazione post-pandemica di questo genere, a fare i tagli e a guardare il bilancio con gli occhi di chi deve razionalizzare, sinceramente non lo ritengo giusto perché oggi invece la pandemia ci ha messo in evidenza come il socio sanitario è l'elemento di qualità su cui un Paese misura il proprio livello di civiltà. Quindi vi è a mio giudizio da parte di tutti la necessità di sollecitare come il nostro modello di welfare imponga nella prospettiva futura una maggiore considerazione di risorse da destinare al socio sanitario. Qualcuno mi può dire che già il bilancio della regione impegna più dell'85% delle proprie risorse sul socio sanitario. Io poi però posso capire che a livello di valutazione macroeconomica questa appare come una cifra abnorme, ma se noi vogliamo dare risposte ai cittadini a questo dobbiamo esserci. Quando la salute viene messa in discussione, lo vedete, vi è un'attenzione spasmodica da parte di tutti perché si parla dell'essenza stessa della nostra esistenza. E quindi sul piano della qualità dei servizi queste risorse aggiuntive occorrono perché altrimenti in una logica di razionalità di bilancio si arriva al cinismo rispetto alle esigenze che poi vengono a emergere dalla popolazione. Oltre le RSA significa quindi soprattutto risorse perché noi possiamo sviluppare quei servizi all'interno delle RSA che ne qualifichino il profilo, all'esterno in una dimensione di attenzione verso i non autosufficienti, perché poi si parla di anziani perché ne sono la grande quantità ma non sono solo loro, attraverso un'attenzione ai non autosufficienti che sia in grado di alleggerire quella che è una condizione che altrimenti condiziona tutta la famiglia e quindi anche quando si parla di diminuzione demografica poi è evidente che se in una famiglia c'è un senso di pesantezza per dover assicurare una vita dignitosa a chi di questa famiglia ne ha parte, si riflette anche sulla prospettiva di una vita da dare nel momento in cui una giovane coppia si trova con questa sorta di peso per poter vivere altrimenti con una prospettiva di serenità la propria vita ecco quindi che housing sociale come si manifesta in tutta una serie di proposte qui c'è Sara Funaro che i comuni con impegno stanno portando avanti ecco che servizi di comunità perché vi possa essere un senso di rapporto con la comunità che vive nelle relazioni sociali e quindi nella predisposizione se vogliamo anche edilizia urbanistica con cui concepiamo la città del futuro ecco il rapporto che si può creare con ausili di un aggiornamento da un punto di vista della stagione informatica che vivremo dalla telemedicina a quello che poi sono i supporti che la tecnologia ci può offrire tutte dimensioni su cui dobbiamo lavorare nel contesto dell'oltre RSA e devo dirvi che proprio parlando di queste materie io per la prima volta quest'anno tenterò di portare risorse che per gli investimenti e quindi possano esserci anche per chi gestisce strutture di residenze sociali assistite con una visione del futuro con investimenti che arrivano dai fondi strutturali europei parlo non del recovery fund anche nel recovery fund noi potremo trovare nel momento in cui si chiarirà di più come lo Stato vorrà portarsi alle regioni perché ad oggi sinceramente anche nei decreti governance non si capisce bandi, procedure negoziate di per sé destinazione di risorse anche se ancora non c'è il progetto ma per materie di interesse lo vedremo nel momento in cui passata la negoziazione con l'Europa il governo nella sua task force si rapporterà con le regioni ma al di là del recovery fund noi abbiamo un elemento di certezza che sono i fondi strutturali che vengono destinati sul fondo di coesione quello che interessa in questo caso si parla di 900 milioni per i prossimi sette anni vengono destinati ogni sette anni si è esaurita il settennato 2014-2020 noi avremo ora il settennato 2021-2027 noi abbiamo messo una quota di risorse per vedere se proprio con questi fondi europei possiamo contribuire a sostenere quello che è uno sforzo di adeguamento di aggiornamento, di implementazione per rinnovamento di strutture e di strumenti che possono essere utilizzate nelle residenze per anziani io devo dirvi che in passato anni fa quando svolgevo il mio lavoro di dipendente in una ASL ho fatto anche il segretario della commissione di vigilanza sulle RSA e troppe volte noi avevamo una visione diciamo come struttura pubblica molto edilizia di controllo delle misure di controllo di quello che erano i parametri fissati dalla legge noi dovremmo avere un rapporto e devo dire che lo sforzo che il mio assessore sta facendo è anche questo di valutazione proprio degli elementi di umanità e di comunità che da parte dell'RSA possono essere offerti e ho visto nei gestori uno sforzo una costruttività di cui do atto oggettivamente e sinceramente in un'occasione come questa spero che dal convegno di oggi possano emergere delle indicazioni sempre più concrete sulle quali anche il nostro dialogo poi possa confrontarsi e anche quello sforzo che io sto facendo per trovare risorse ulteriori da destinare a questo mondo che è fondamentale in una società che vede sempre più un'aspettativa di vita che si rivolge ai 90 anni ma che contemporaneamente sulla non autosufficienza gioca la credibilità di un paese che offre un livello di civiltà superiore possa in una sinergia estremamente costruttiva fra pubblico e privato dare delle risposte a chi oggi ha investito come gestori dell'RSA di responsabilità importanti e io sono nel cuore nel momento in cui tutto questo si manifesta anche nelle problematiche di ogni giorno ma contemporaneamente da parte dell'istituzione pubblica la possibilità di sentire sempre più un gioco di squadra per poter dare ai cittadini a coloro che poi ne sono destinatari il senso anche di un orgoglio di un'organizzazione che consentitemi io sento per come si manifesta nei suoi operatori nella professionalità di creare nuova occupazione che qui si può davvero creare e vorrei vedere orientati tanti giovani magari senza numeri chiusi blocchi o così via perché poi li scontiamo quando manca il personale e contemporaneamente con questo rapporto sinergico che consentitemi vede questa dimensione come una delle dimensioni su cui il biglietto da visita di come vive la comunità toscana la prospettiva del futuro si misura nei livelli di qualità e di efficienza in termini umani che questa dimensione può offrire grazie davvero di cuore e complimenti per questo momento grazie a tutti